Musica Soveria e donna tutto l'anno La risorsa femminile è fondamentale per la nostra comunità Che ha sempre espresso nel corso dei secoli E delle testimonianze di grande significato Prima di tutto per il valore che le donne assegnano alla famiglia Se soveria è così è perché le donne di soveria Hanno trasmesso dei valori importanti, significativi ai propri figli E hanno costruito quindi una comunità che è cresciuta Proprio partendo dai valori Allora diventa significativa la manifestazione di questa sera Che ha inteso premiare due esponenti di questo mondo femminile Artigiano e commerciale Che hanno contribuito allo sviluppo economico E quindi sociale e quindi culturale della nostra comunità E un punto di partenza Al quale dobbiamo aggiungerne tanti altri Che certamente seguiranno negli anni che verranno Grazie a tutti 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 Grazie a tutti